trucchi per windows che non conoscevi questo è il titolo esatto dell'articolo che ho letto questa mattina ancora mezzo addormentato mentre facevo colazione su una rivista di settore americana in realtà ero così addormentato che mi sono anche dimenticato di salvare l'articolo ma poco importa quello che importa è che era letteralmente zeppo di una serie di trucchi davvero utilissimi ed interessantissimi che valgono sia per windows 10 che per windows 11 mi sono reso conto tuttavia del fatto che alcuni di questi te li avevo già presentati e allora ho proceduto a fare una bella scrematura ho selezionato solo i migliori i più interessanti meno conosciuti e più utili e sono pronto qui a fare ammenda e a farteli vedere uno per uno e quindi se ti senti pronto iniziamo devo essere sincero due di questi trucchi non li conoscevo francamente nemmeno io appena li ho imparati e li ho messi in pratica li ho trovati utilissimi ed è tutta la giornata che anche quando non ce n'è motivo li sto utilizzando ma prima di mostrarli anche a te dobbiamo compiere quel sacro rituale apotropaico che a quanto pare serve a placare le divinità del tubo e quindi disclaimer i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo andiamo avanti va ci libereremo mai della maledizione del disclaimer chi lo sa naturalmente nel video non ti viene mostrato nulla che possa essere minimamente dannoso per il tuo computer ma come bensai se hai seguito i video precedenti sono costretto a mettere il disclaimer perché a quanto pare ci sono stati dei problemi ma veniamo a noi finalmente e parliamo del primo trucco e il primo trucco riguarda udite udite la rotellina del mouse questa qui che vedi luminosa sul mio mouse naturalmente tutti quanti sappiamo qual è l'uso principale della rotellina ovvero nel momento in cui andiamo ad aprire una cartella sostanziosa come può essere ad esempio windows ruotando la rotellina questo va in alto e in basso e questo lo sapevamo tutti ma quello che molti non sanno me compreso della rotellina è che questa può servire ad aprire multiple istanze di un programma ebbene sì ma detto così sembra un pochino difficile e allora lo spieghiamo con un esempio pratico supponiamo di avere una nostra cartella come la cartella documenti in cui in realtà ho creato multiple copie di uno stesso file ma supponiamo di avere tanti file all'interno di una cartella e di dover ad esempio copiare solo alcuni di questi file per esempio nella cartella download se ci portiamo tuttavia nella cartella download vediamo che alcuni di questi sono presenti e allora come faccio ad aprire due istanze di explorer dal momento che se riclicco su explorer non se ne apre un'altra ma minimizza la finestra ebbene andando qui e premendo quindi facendo clic con il pulsante centrale ovvero con la rotellina del mouse avremo possibilità di aprire una seconda istanza di explorer e in questo caso ad esempio sarà molto più semplice portarci nella cartella documenti vedere che l'unico documento che manca è quello che si chiama copia copia e fare una copia di quest'ultimo una bella comodità sicuramente ma ci sono anche naturalmente altri casi ad esempio quello in cui hai bisogno di aprire più istanze della calcolatrice ebbene facendo clic sull'icona della calcolatrice con il pulsante centrale avrai l'opportunità di aprire tutte le istanze in più che desideri dello stesso programma bel trucco e sempre a proposito del nostro esplora risorse mi è venuto in mente di mostrarti un altro piccolo trucchetto molto utile che abbiamo visto utilizzare qualche volta nei video precedenti ma che non ti ho mai spiegato in realtà non era incluso nell'articolo ma credo che ci stia a fagiolo in questo contesto si tratta di questo quando apriamo il nostro esplora file o esplora risorse a seconda di come ti piace chiamarlo vedi che sul lato sinistro abbiamo una serie di cartelle che sono pinnate come si suol dire in gergo di default significa che sono bloccate e che insomma le troverai sempre qui è molto comodo per spostarsi tra le cartelle di uso comune come download documenti eccetera e fin qui ci siamo tuttavia quello che mi sono accorto che molti non sanno è che c'è la possibilità di modificare e aggiungere delle cartelle di uso comune facendo un esempio sai che uso spessissimo la mia cartella ok presente sul desktop che se mi segui assiduamente sai anche a che cosa serve ebbene se una cartella la utilizzi spesso sicuramente facendo clic con il pulsante destro del mouse su esplora file questa sarà compresa al suo interno cosa succede succede che se andiamo ad agire su questa puntina questa verrà aggiunta sul lato sinistro non la vediamo ancora perché dobbiamo chiudere e andare a riaprire oppure aprire una seconda sessione con il pulsante centrale visto che abbiamo imparato a farlo di esplora risorse e vedrai che da questo momento in poi la cartella ok sarà presente nel caso in cui non volessi più tenerla ti basterà semplicemente andare qui in basso e rimuovere la puntina andando a chiudere e riaprire la cartella sarà nuovamente sparita il prossimo trucco che voglio mostrarti riguarda la selezione questa sconosciuta ma per fartelo vedere ho bisogno di aprire un bel documento di word nella fattispecie abbiamo un classico lorem ipsum quello che sicuramente sai è che facendo clic su un punto qualunque del documento tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinandolo potrai evidenziare o meglio selezionare una porzione di testo e va bene quello che probabilmente sai è anche che facendo doppio clic su una qualsiasi parola questa verrà automaticamente selezionata forse non sai invece che facendo triplo clic su una qualsiasi parola selezionerai la parola stessa e tutta la frase che la contiene in questo modo qui ma quello che sono pronto a scommettere che invece non sai è che tenendo premuto il tasto alt sulla tua tastiera puoi effettuare una selezione di questo tipo di la verità questa non l'avevi mai vista una volta selezionata naturalmente potrai trattare quella porzione di testo in qualsiasi modo vorrai ad esempio cambiando il colore evidenziandola e così via e parliamo ora del prompt dei comandi che ci siamo trovati ad utilizzare spesso nei video precedenti per aprirlo abbiamo due scelte possiamo cliccare sulla lente e digitare cmd ci verrà mostrato il prompt dei comandi che potremo aprire oppure potremo premere la combinazione di tasti windows cioè il tasto con la bandierina sulla tua tastiera più il tasto r e al suo interno digitare appunto cmd e quindi ok si aprirà la nostra finestra del prompt dei comandi ma supponiamo a questo punto di dover aprire il prompt all'interno di questa cartella che si trova in c windows system 32 appraiser che cosa succede se dobbiamo portarci su una qualsiasi cartella faremo questo cioè digiteremo cd backslash per tornare indietro sulla root ovvero su c e poi digiteremo cd il comando per cambiare cartella seguito dal nome della cartella ad esempio windows ma io in questo caso premo il pulsante tab sulla tastiera per avere il completamento automatico aggiungerò un altro backslash e quindi scriverò system 32 in questo caso scrivo solo sis e premo tab fino a quando non mi compare system 32 aggiungo un altro slash e mi porterò quindi su appraiser anche in questo caso scrivo app premo tab fino a quando non compare appraiser e quindi do l'invio con questa procedura elaborata è un pochino difficile ed ostica da eseguire soprattutto per un principiante mi sarò portato all'interno di questa cartella ma quello che voglio mostrarti è che esiste un metodo semplicissimo per aprire il prompt all'interno di qualsiasi cartella se per esempio devi lanciare uno dei file contenuti nella stessa aggiungendo magari qualche opzione quelle che si aggiungono con lo slash come si fa se voglio aprire un prompt dei comandi all'interno di questa cartella mi porto sulla barra del titolo qui in alto clicco al suo interno cancello quello che c'è scritto e vado a scrivere semplicemente cmd qui dentro premendo invio si aprirà la finestra del prompt dei comandi direttamente in questa cartella senza bisogno di fare tutta quella complicata procedura ma c'è di più come vedi questa finestra ha il brutto vizio di coprire tutto quello che c'è dietro oltre ad essere decisamente antiestetica e allora perché non prendere due piccioni con una fava renderla più carina e magari traslucida in modo da poter leggere anche quello che c'è al di dietro di essa per farlo clicchiamo con il pulsante destro sulla barra in alto questa grigia qui del titolo e scegliamo la voce impostazioni nelle impostazioni sul lato sinistro ci sposteremo qui dove dice prompt dei comandi e scenderemo in basso fino alla voce aspetto cliccando su aspetto scenderemo ancora una volta in basso e selezioneremo la nostra trasparenza per esempio al 50% o anche meno se ti piace fare una cosa come quelle che faccio io cliccando su salva andremo sulla nostra finestra che come vedi sarà diventata traslucida e avremo la possibilità di digitare vedendo anche tutto quello che c'è dietro e concludiamo con un trucchetto bonus che mi sono dimenticato di farti vedere nel video ma te lo spiego perché tanto è semplicissimo se utilizzerai il pulsante centrale del mouse per fare clic ad esempio su una scheda di chrome oppure su una scheda aperta all'interno di notepad questa scheda verrà chiusa un'altra utile funzione di questo pulsante ma veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi vanno a marco bonatta fabrizio fogagnolo marco baravelli franco malaspina e alessandro liverani che si sono abbonati oppure hanno rinnovato il loro abbonamento al nostro canale e quindi vi do il benvenuti al bordo oppure il ben rimasti a bordo a seconda dei casi a tutti quanti ringraziandovi naturalmente per il supporto che date alla nostra community e sempre a proposito di supporto alla nostra community un ringraziamento specialissimo a daniele napolitano angelo galasso e thomas 29 15 per il loro supporto e i loro graditissimi super grazie insomma ragazzi vi ringrazio tutti quanti indistintamente tantissimo per la vostra vicinanza a questa community ma c'è un altro ringraziamento fondamentale che non possiamo mai dimenticare ovvero quello destinato proprio a te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che come di consueto salutarti e darti appuntamento alla prossima grazie a tutti grazie a tutti Grazie.